Letizia Di Lisa del gruppo sportivo Virtus, premio speciale per te, riconosciuto dal CONI Molise per il secondo posto nel campionato italiano e quindi secondo posto assoluto nei 5.000 metri, una stagione che si corona con questo anche riconoscimento ulteriore. Sì, una stagione davvero brillante, questo risultato è stato davvero straordinario e un onore ricevere questo premio che ripaga di tutti i sacrifici fatti in questi anni e mi onora rappresentare il Molise e la mia società in un campionato appunto assoluto e quindi salire lì sul podio è stata un'emozione sicuramente unica. Per te che vivi l'atletica veramente a 360 gradi perché col gruppo sportivo Virtus sei atleta ma organizzi anche, insomma collabori fattivamente anche per l'organizzazione della soggiù, dai sempre consigli agli atleti anche più piccoli, insomma sei veramente un atleta a tutto tondo. Sì, diciamo che vivo l'atletica veramente a 360 gradi come hai detto anche tu, sì do sicuramente dei consigli e spesso loro mi guardano come punto di riferimento e per me è una grande soddisfazione. E gli obiettivi allora per il nuovo anno? Gli obiettivi sono sicuramente quelli di riuscire a raggiungere altri importanti traguardi, chissà magari anche un primo posto che quest'anno veramente l'ho sfiorato di millesimi di secondi. E sempre però a testa bassa cercando di allenarmi in maniera costante come abbiamo fatto anche in questi anni. Grazie a tutti.